Anche se i fatti di cronaca che si sostanziano in bambini impauriti dalla guerra, nei sogni infranti di tanti giovani, negli attentati, sembrano assuefarci al dolore, dobbiamo ricordare che c'è un padre che piange lacrime di infinita pietà nei confronti dei suoi figli. Nel corso dell'udienza generale, Papa Francesco ha riflettuto su un passo dell'Apocalisse, ribadendo che il nostro padre è il Dio delle novità e delle sorprese e ci ha creato perché ci vuole felici. Noi crediamo e sappiamo, ha insistito, che la morte e l'odio non sono le ultime parole pronunciate sulla parabola dell'esistenza umana. Non è dunque cristiano camminare con lo sguardo rivolto verso il basso senza alzare gli occhi all'orizzonte perché il nostro cammino non si esaurisce nel palmo di pochi metri di viaggio. Qualcuno crede che la vita trattenga tutte le sue felicità nella giovinezza e nel passato è che il vivere sia un lento decadimento. Altri ancora ritengono che le nostre gioie siano solo episodiche e passaggeri e nella vita degli uomini si è iscritto il non-senso. Quelli che, davanti a tante calamità, dicono che la vita non ha senso. La nostra strada è il non-senso. Ma noi cristiani non crediamo questo. Crediamo invece che nell'orizzonte dell'uomo c'è un sole che illumina per sempre. Crediamo che i nostri giorni più belli devono ancora venire. Siamo gente più di primavera che di autunno. A me piacerebbe domandare adesso. Ognuno risponda nel suo cuore, in silenzio, ma risponda. Io sono una persona di primavera o di autunno? Di primavera che aspetta il fiore, che aspetta il frutto, che aspetta il sole, che è Gesù. O di autunno, che è sempre con la faccia guardando in basso, amareggiato. E come alcune volte ho detto, con la faccia dei peperoncini all'acetto, no? Così.